buona vita a tutti buona vita a tutti due mela così si chiama questo e ti salva a che ti servono due mela meglio se siano biologiche capito ma se no le pulisci diciamo li lavi con aceto di mele bicarbonato di sodio bene con l'acqua caldina la boccia e togli la buccia e non lo butti la boccia è proprio quella che è il rimedio le mele le mele che fai se vuoi le mangi di giorno se non li vuoi mangiare li passi in frullatore metti un pochino di zucchero proprio per non cristallizzare l'acqua e le metti nel freezer entro una vaschetta di yogurt e quando hai voglia di miele li tiri fuori tu lo sai già è inutile che è una masticazione da cavolo capito e per questo il frullatore è la tua seconda dentiera dai è inutile nascondersi dietro il dito anche se c'è 20 anni ti conviene usare il frullatore se parliamo di una vita sana allora diceva ecco qua ho messo le ciliegie con il zucchero è un altro rimedio che sto facendo ma ne parleremo allora dicevo sarebbe meglio avere delle mele bio lavi bene pulisci la buccia toglie la buccia le mele con la polpa fai quella che ti pare io ti ho detto che faccio io quando non ho voglia di mangiarli in quel giorno li metto in frullatore con un po di zucchero se sei diabetico puoi metterli con un po di topinambur ma meglio con sciroppo di topinambur perché quella non non fa male ai diabetici se se ce l'hai i frutti di gelso meglio che li addolcissi con i frutti di gelso ce ne sono un sacco di frutti dolci che contengono inulina ma non è glucosio fruttose e che sono buoni per i diabetici ma per questo ti deve iscrivere il mio canale e ti deve mi deve cercare su facebook come maica mario russo scrivete a un mio canale la biblioteca dei rimedi naturali russi cure omeopatiche alimentazione dieta cose varie e allora troverai di più stai attento che non sono gratis io io non sono babbo natale più o meno tre euro al mese mi devi dare anche a me per tutto quello che ti insegno se hai voglia se no tornati in farmacia non ci sono problemi allora dicevo le bocce le bucce la sera li bolisci tre minuti setaci e quando il caldino li bevi come un tè tè di bucce di mella avrai un sogno tranquillo riposante al secondo giorno per te sarà un giorno senza ansia senza stress senza urli senza schiamati senza litigi provare per credere a me non mi deve credere a me mi deve controllare guai se arrivi a credere a me guai se arrivi a credere a qualcuno nella bibbia c'è scritto chiaro maledetto sia l'uomo che confida in un altro uomo e si allontana il cuore da dio appunto tu non devi confidare nei altri uomini non devi credere li devi controllare nella bibbia c'è scritto chiaro che i fratelli di tessalonico avevano un cuore prescelto in quanto controllavano con le scritture se quella che diceva san paolo era vero allora se tu vuoi essere un uomo con un cuore prescelto controlli noi russi diciamo così davirei ne pravirei vuol dire crederlo credere però controlla invece da voi italiani è o bianca o nero a fidarsi è bene non fidarsi è meglio buonanotte al secchio se fai così finisci in fosso fidarsi è bene non fidarsi è meglio e che cacchio è risolto non è risolto niente è meglio quella che dicono i russi tu credere va bene però controlla io ti credo che l'acqua è bagnata però metto la mano se vedo se mi bagno appunto più o meno così vabbè hai capito il tè di queste mele ti dà il riposo notturno per contro l'insonnia di quale tu ne hai tanto bisogno e il secondo giorno ti assicura l'energia e la tranquillità di quale hai bisogno per affrontare il secondo giorno provare per credere vedi non ti ho rubato molto tempo neanche cinque minuti ricordati che tutto questo è un lavoro fatto che qualcuno ti informa e che un consiglio di come riparare la lavatrice per esempio o la macchina o di come cambiare la lampada quando ti sei bruciato nel lampadario vale più che chiamare il tecnico e pagarlo ma se tu hai soldi vai in farmacia bye bye